buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi entriamo un pochino il più nel dettaglio sulle funzionalità e soprattutto che cos'è il progetto polygon matic network e la sua blog cene ovviamente dopo la sigla polygon è nato come matic come ben sapete nel 2019 grazie una ipo che ha ottenuto 5 milioni di dollari come sovvenzioni lo scopo del progetto originale era assistere i tiri o nelle sue transazioni con la creazione di una sai decenni in grado potenzialmente di farsi carico di una parte delle operazioni di tiri e soprattutto da abbattere i costi delle transazioni nel 2021 quindi quest'anno metti che è diventato polygon e ha ampliato la sua visione non è più solo una side chain per migliorare tiro ma è una soluzione potenzialmente in grado di accogliere qualsiasi progetto anche al di fuori della rete tiri un polygon come metti che si basa sul consenso prufo steak delegate e che permette l'esecuzione di decine di migliaia di transazioni al secondo molto simile all'architettura di polka dot esistono quattro layer fondamentali che vanno a comporre polygon e cene su polygon possono usare e tir un per alcune componenti fondamentali della loro del loro ecosistema il security layer ovvero la possibilità di affidare dei validatori per la bello cene in cambio di una commissione il polygon network layer che sono una serie di network indipendenti l'execution layer interpreta esegue le transazioni all'interno del network di polygon nel video precedente abbiamo visto come funziona lo swap decentralizzato di polygon matic network e come collegarlo a meta mask a rete matiche che poi è diventato polygon non è una block chain come molte si vanno a definire e tira un killer assolutamente polygon è una side di cene che vuole migliorare l'infrastruttura di eti rium quindi prendere tutti i vantaggi di quest'ultima migliorarlo e integrare altre block chain ovviamente con dei costi bassissimi quindi il progetto in sé prima si chiamava matic ora viene chiamato polygon quindi polygon è un protocollo block chain fatto apposta per riuscire a connettere più block chain compatibili con eti rium vantaggi di polygon sostanzialmente sono la velocità estrema delle transazioni e il gas fi quasi inesistente ovviamente come aveva visto nel video precedente tutte le transazioni tutte le fi vengono pagate sulla side cene di polygon matic nel token matic token che su coin market cap attualmente a rank 18 con 312 mila persone che lo hanno nella watch list su coin market cap con un valore di 1 euro virgola 8 centesimi e si può acquistare come abbiamo già detto sui più grandi exchange come by nasco in base exchange e uobi global per quanto riguarda la funzionalità di questa side chain a parte poter collegare più veloce in relativa ai tiro contemporaneamente fare lo swap dei token a costi bassissimi può essere utilizzata anche come metodo di pagamento avendo delle transazioni velocissime a costo quasi a zero supporta applicazioni decentralizzate abbiamo visto anche la creazione di un gioco tramite nft che mi pare si chiami ave gocci a un sistema di protezione dei dati personali può supportare lo staking prestiti quindi si integra perfettamente con la defa polygon sta spingendo forte anche grazie al farming ma soprattutto come abbiamo visto nel video dell'altro giorno col suo exchange decentralizzato quicksweb per quanto riguarda il suo ecosistema come potete vedere tantissimi progetti si sono già spostati e integrati su polygon matic abbiamo appunto la defa icono yield farming e liquidi liquidity mining abbiamo dei tool gli asset management il gaming e betting soprattutto gaming e nft si stanno spostando su polygon per i costi bassissime l'altissima velocità quindi si stanno spostando dalla mamma e tiro abbiamo dei protocolli di identità lending stable coin gli swap soprattutto questi sono molto importanti anche gli swap si stanno aggregando a polygon per essere più veloci per avere più accesso alla liquidità e per avere meno fi da far pagare agli utenti abbiamo su questo network e la matic proof of stake chain evm compatibile con i tiri un quindi vuol dire che tutte le applicazioni decentralizzate quindi tutti gli sviluppatori di tiro possono integrare le loro d'app all'interno alla matic chain lo zk roll up è una cosa importantissima perché va a fornire la sicurezza che si può trovare sulla blog cd tiramo completamente integrata a polygon matic network come potete vedere ovviamente sono tutte cose coming soon vuol dire che sono in arrivo secondo una road map ben stabilita ben chiara e per ora anche ben strutturata e soprattutto rispettata per quanto riguarda altre informazioni come ad esempio il team di sviluppo lo possiamo trovare descritto all'interno del sito polygon punto technology possiamo andare a vedere tutti i ferimenti linkedin twitter github mentre per la community sia telegram che twitter hanno parecchio seguito su telegram contano circa 43 mila e 107 membri mentre su twitter andiamo a vedere un po la community se attivo meno abbiamo circa 349 mila follower quindi davvero è un ecosistema ben supportato anche da una community molto attiva e questa come ben sapete è una cosa molto importante siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro con set appuntamento spero come sempre che il video sia stato utile semplice e di vostro gradimento vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale e di supportarmi con un like ed eventualmente se avete piacere di fare due chiacchiere insieme a noi a donna e bianca la nostra community telegram grazie a tutti a domani tutti più 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 più